Una buona giornata cari amici, buon lunedì, buona settimana, che settimana che ci attende perché sarà quella che ci porterà all'inizio della Serie A 2020-2021. Nel prossimo weekend riparte il campionato con tante cose da dire fin da subito, addirittura a metà della settimana giovedì sera ci sarà anche il debutto internazionale di una squadra italiana perché il Milan inizierà la sua campagna di riconquista del status europeo affrontando a Dublino lo Shamrock Rovers giovedì sera, partita che come vi ho detto commenterò io per cui la attendo particolarmente. Nel frattempo ci saranno tante mosse di mercato, io ho intenzione di parlarvi presto di quelle che sono le prospettive immediate, di quello che ci possiamo attendere dalla settimana di praticamente tutte le big italiane perché di situazioni da sistemare ce ne sono parecchie, c'è ancora un po' di tempo perché il mercato finisce il 5 di ottobre però con l'arrivo del campionato, con il ritorno in campo, le cose sono da fare il prima possibile anche perché mi sembra che si possa preannunciare una serie A piuttosto densa, piuttosto incerta lì davanti, dipenderà molto dalla nuova Juventus di Pirlo però insomma le concorrenti stanno cercando di attrezzarsi per cui mi aspetto una settimana con qualche botto. Prima però di parlare di tutto questo voglio ragionare con voi su quello che è stato il weekend di calcio internazionale perché è ricominciata la Premier e vi dico già domani farò un punto molto approfondito sulla prima giornata di Premier League perché ci sono tante cose da andare a discutere, soprattutto direi la vittoria di Ancelotti contro Mourinho, vi ho parlato ieri del clamoroso debutto del Leeds del Loco Bielsa che ha perso 4-3 contro il Liverpool però ecco domani dopo aver visto in campo anche il Chelsea questa sera oltre al Wolverhampton farò un punto approfondito sulla Premier League, questa mattina vi voglio parlare di quella che è stata l'ultima diciamo domenica senza Serie A, senza calcio italiano, una domenica che si è chiusa con due partite, una in Francia e una in Spagna che ci hanno riservato veramente tanto spettacolo, tanti motivi di divertimento e anche un po' di sussulto emotivo perché sono state due partite, il classico di Francia quindi Paris Saint Germain OM con la vittoria di Marsigliesi al Parco dei Principi e il derby di Valencia in Spagna, Valencia Levante 4-2 per i C in rimonta dopo una partita veramente densa di cose, sono stati due appuntamenti che che insomma hanno acceso il fuoco, ci hanno detto veramente che la stagione è cominciata oltretutto sono due partite anche con grande carica dal punto di vista emozionale e come sapete ho sempre un occhio di riguardo per questo tipo di sfide in giro per il mondo per cui stamattina per augurarvi una buona settimana per entrare subito forte nel mood di una settimana che ci riporterà alla Serie A e ci dirà tantissime cose voglio analizzare con voi queste due partite che ho visto e che mi hanno lasciato diversi spunti di riflessione e di discussione inizio ovviamente con quello che è andato in scena ieri sera a Parigi PSG OM è sempre una partita a parte nel mondo e in particolare in Francia perché è la rivalità più grande, è la rivalità più sentita, è la contrapposizione più netta fra i due mondi dominanti nel calcio francese, il mondo diciamo poche, nuovo, ricco del Paris Saint-Germain e invece l'anima estremamente popolare dell'Olympique Marsiglia, espressione di una città unica al mondo, di una città che riversa nei confronti della propria squadra un attaccamento viscerale diciamo che la distanza negli ultimi anni si era piuttosto ampliata anche se l'anno scorso l'OM ha chiuso al secondo posto quindi si è riproposto come l'alternativa principale al Paris Saint-Germain. L'appuntamento di ieri sera addirittura scava una distanza a favore della squadra di Villas-Bos anche se siamo solo alla seconda giornata però per i marsigliesi una vittoria a Parigi è sempre qualcosa da celebrare e lo abbiamo visto anche con modalità forse un po' discutibili e sicuramente questo avvio contrapposto di PSG-OM ci lascia qualcosa di cui parlare perché il Paris Saint-Germain è incredibilmente a quota 0 punti dopo due partite giocate, perso 1-0 con l'ANCE, perso 1-0 con l'Olympique Marsiglia, il fatto che il PSG non abbia segnato per due gare consecutive di Ligue 1 che si trovi ancorato al fondo della classifica è una situazione che colpisce piuttosto l'occhio. Dall'altra parte invece l'Olympique Marsiglia è con il Saint-Etienne l'unica squadra a punteggio pieno e tra l'altro nel prossimo weekend c'è proprio l'incrocio fra le due formazioni che hanno fatto 6 punti in due partite e quindi in questo avvio piuttosto disomogeneo del campionato francese non sono loro a guidare la classifica nonostante siano le due squadre a punteggio pieno perché in vetta c'è un trio piuttosto particolare a quota 7 punti conquistati in tre gare, c'è il Rennes che continua a surfare sull'onda molto positiva della stagione scorsa, c'è un Monaco che vuole riproporsi e che dopo il pareggio alla prima ha infilato due vittorie consecutive, l'ultima con il Nantes in cui è andato in rete anche il classe 2000 a Diop e poi c'è il Lille che nonostante l'accessione di Ozyman è riuscito a partire bene perché questa è la situazione generale nel calcio francese ma la situazione particolare delle classiche ci ha fatto vedere una partita molto increspata, parecchio nervosa fin da subito a mio modo di vedere anche non gestita bene dal direttore di gara, una partita che oggi prende le prime pagine internazionali per quello che è stato il suo epilogo da baraonda, quella rissa finale che ha portato addirittura cinque cartellini rossi, è una situazione che andava cuocendosi ripeto fin dall'inizio del match, nervosismo, tanti bisticci, tante provocazioni, tante cose fuori dall'ordinario di una partita di calcio con l'esplosione finale dopo quel contatto fra i due argentini Paredes e Benedetto, entrambi ammoniti per la seconda volta e quindi espulsi nonostante siano entrati tutti e due dalla panchina, si è scatenata una gazzara con anche un vero e proprio scambio di colpi fra Kurzava e Amavi, entrambi espulsi e poi la situazione di Neymar, Neymar che ha tirato questo colpetto anche abbastanza sciocco ad Alvaro, è stato beccato tramite il VAR, cartellino rosso subito per Neymar Junior, anche applauso all'arbitro per cui potrebbe arrivare una lunga squalifica, la coda del post partita in cui Neymar ha ribadito che avrebbe voluto anche andare in modo molto più diretto nei confronti di Alvaro, accusato dal brasiliano di insulti razzisti per cui ci sarà una coda delle classiche anche in questo senso, Neymar è tornato decisamente male, non poteva debuttare in maniera peggiore in questa stagione, non ha giocato una buona partita, lo si è visto fin da subito piuttosto provocatorio anche nelle proprie attitudini e con Alvaro diciamo che si è aperto un nuovo capitolo perché io di cose spagnole un pochino conosco e soprattutto mi ricordo tutto quello che è successo negli ultimi anni e vi posso dire che i ferricorti fra Alvaro Dominguez e Neymar Junior sono presenti già da un po' fin da quando Alvaro giocava nel Villarreal e soprattutto prima nelle Spaniol derby di Barcellona decisamente scintillanti a quei tempi fra quello che era un difensore di riferimento dei Pericos e la MSN del Barça per cui sicuramente sono due che non si vogliono bene da tanto tempo però ecco in questo balletto poi bisogna vedere se ci sono stati evidentemente degli insulti però Neymar ne è uscito piuttosto male così come esce piuttosto male da questo avvio di stagione il Paris Saint Germain anche se va detto e lo ha sottolineato secondo me giustamente Tuchel dopo la partita ci sono una serie importante di attenuanti perché non dobbiamo dimenticare che il Paris Saint Germain solo tre settimane fa giocava la sua ultima partita della stagione scorsa ed è stata la finale di Champions League persa contro il Bayern Monaco è vero che il PSG si è fermato per tanto tempo però pensare che a tre settimane dall'ultima partita stagionale la squadra ne abbia già giocate due della nuova stagione dalla dimensione di quanto sia strano il momento dei paregini oltretutto ci sono anche le tante indisponibilità dovuta dovute all'ondata di contagi che ha colpito la rosa mancano giocatori determinanti nei mare di Maria sono tornati ieri sera nella partita con l'Olympique Marsiglia Icardi è ancora fuori è fuori Marchigno se n'è andato Tiago Silva insomma le assenze sono tante e fra queste assenze c'è anche quella di Mbappé che sicuramente è di conobietà un giocatore determinante per questa squadra però pur essendo assente Mbappé ha fatto parlare di sé perché una delle notizie o comunque delle voci di mercato di ieri è legata proprio al fatto che lui vorrebbe forse andarsene alla fine della stagione potrebbe esserci stata anche una comunicazione in questo senso lo aspettano in tante io credo che insomma la maglia in questo momento magari un pochino più pronta delle altre per Mbappé sia quella della Real Madrid ma già abbiamo da fare i nostri discorsi sul mercato attuale figuratevi se vi metto a proiettarmi su quello dell'estate 2021 e tutto questo per dire che insomma la situazione è tutt'altro che serena a Parigi ed è una non serenità che si riflette soprattutto sulla panchina di Tuchel che già l'ha salvata diciamo per il rotto della cuffia dopo la stagione scorsa dopo l'epilogo della Champions League i discorsi erano stati tanti io credo anche per mancanza di tempo non si sia intervenuti però partire così con due sconfitte detto che è una situazione assolutamente recuperabile per una squadra del genere in un campionato del genere però questi due passi falsi insomma non aiutano la situazione di Tuchel che poi giustamente dice che non bisogna lasciarsi abbandonare allo scoramento perché oltretutto la partita l'abbiamo vista ve l'ho detto una partita piuttosto brutta sul piano agonistico troppi contrasti troppi litigi però una partita in cui il Paris Saint Germain avrebbe probabilmente meritato di non perdere ha avuto diverse occasioni è andato a sbattere su mandandà soprattutto all'inizio parata clamorosa quella del portiere capitano dell'Olympique Marsiglia su una conclusione particolare di Verratti però il suo riflesso il suo tuffo è stato veramente sbalorditivo è già candidata ad essere una delle parate dell'anno quella di mandandà che poi ha respinto altri assalti Paris Saint Germain che ci è arrivato vicino tante volte si è visto annullare un gol ha mancato in più di un'occasione per centimetri la zampata giusta per cui insomma non è stata una grandiosa prestazione quella del Pégé però un pareggio sicuramente non sarebbe stato demeritato detto tutto questo le cose positive in casa Paris Saint Germain non sono non sono poi molte la migliore forse della partita di ieri sera è stata il debutto di Florenzi preso mandato in campo immediatamente e direi che Florenzi è stato uno dei migliori se non il migliore della sua squadra ha prodotto diversi cross di qualità ha giocato con personalità sulla fascia e io credo che sia un binomio molto interessante e che sia stato anche un binomio giusto quello pensato da Leonardo perché Florenzi ha bisogno di una sfida del genere dopo gli ultimi tempi turbolenti a Roma dopo l'avventura Valencia che non è decollata il fatto di essere chiamato da una delle squadre più importanti del mondo dalla seconda classificata dell'ultima Champions League e soprattutto da una squadra che ha questo tipo di propensione che offre questo tipo di calcio è sicuramente la soluzione migliore possibile e per il Paris Saint Germain un giocatore come Florenzi con la sua dimensione con il suo valore tecnico con la sua polivalenza con la sua mentalità e credo anche con la voglia di riscatto che lo anima in questa fase della sua carriera penso possa essere un incastro appunto in grado di portare soddisfazioni a tutti detto che il Paris Saint Germain deve deve mettersi in riga il più velocemente possibile perché lo spazio per recuperare è abbondante però in situazioni del genere il rischio è quello di incistirsi di andare a creare poi scenari complicati dovesse cambiare allenatore insomma non sarebbe una cosa così positiva anche se il Bayern Monaco dell'anno scorso ci insegna che anche un cambio di allenatore inizio stagione non è per forza una preclusione verso scenari gloriosi vediamo quello che succederà al Paris Saint Germain e vediamo anche quello che succederà all'Olympic Marsiglia perché l'OM è una squadra che con questo progetto di Bilas Boss già da diverso tempo ci dimostra di essere educata di essere una squadra molto ben preparata sul piano tattico una squadra con anche dei valori tecnici interessanti perché insomma Toven e Payet sono elementi che sanno accendere la partita e sanno guidare tecnicamente con la loro creatività con la loro inventiva anche con la loro capacità di essere decisivi la squadra recuperare Toven con continuità potrebbe essere un surplus enorme per l'Olympic Marsiglia che in questo suo percorso di crescita vincendo a Parigi dopo tanto tempo ha secondo me dimostrato di aver fatto un passo in avanti anche sul piano della maturità dell'abitudine a questi appuntamenti perché prendendo ad esempio l'ultimo PSGOM è cambiata completamente la strategia di Bilas Boss aveva cercato di attaccare la squadra di Tuchel di andare ad azzannarla pressarla alta e si era presa un discreto shampoo stavolta ha avuto una tattica più furba più attendista è andata anche a pizzicare i nervi del Paris Saint Germain e ha ottenuto una vittoria che regala un grande avvio che spalanca degli orizzonti secondo me anche piuttosto interessanti per la stagione dell'Olympic Marsiglia questo quello che ho visto nel classico di Francia dopodiché ho visto anche il derby di Valencia Valencia Levante che era l'appuntamento conclusivo della domenica di Liga e che era una partita che oltre a suscitare il mio interesse perché i derby sono sempre partite interessanti dava anche la possibilità fin da subito di pesare il momento del Valencia un momento molto molto complicato perché le scorie della stagione scorsa non solo non sono state cancellate quest'estate ma se possibile si sono ancor più arroventate cosa è successo a Valencia? A Valencia è arrivato un nuovo allenatore Cavi Gracia che è un allenatore interessante sicuramente non di altissimo profilo mediatico poco conosciuto al di fuori della Spagna ma è un allenatore che ha una concezione di calcio moderna, propositiva quindi come allenatore per questo tipo di progetto ci può stare. Il problema qual è? Che il Valencia ha praticamente smantellato la rosa perché sono andati via giocatori determinanti, è stato ceduto l'attaccante Rodrigo al Leeds ed è stato il realizzatore di riferimento negli ultimi anni, se ne è andato il capitano Pareco, se ne è andato anche Klen, anima del centrocampo dal punto di vista agonistico, se ne è andato Garai, altro giocatore guida dello spogliatoio e della difesa, sono andati via anche altri elementi, penso ad esempio ai due italiani, ai due terzini destri, Florenzi e Piccini, una squadra che è stata svuotata e che non è stata riempita perché di acquisti non se ne sono fatti e Cavi Gracia che è uno che parla poco e lavora tanto è intervenuto molto direttamente nella conferenza stampa pre partita del derby, non aveva più parlato dal giorno della sua presentazione, è rimasto diverso tempo, diverse settimane in silenzio e prima della partita con Levante è letteralmente esploso andando ad attaccare direttamente una dirigenza che ormai non ha più sostegno da parte di nessuno, da parte della rosa, da parte del nuovo allenatore, da parte della piazza, ha detto mi sono stati promessi dei rinforzi che non sono arrivati, ha mostrato diverse situazioni di disagio e quindi il derby con un Levante anche in questo caso per nulla nuovo perché Paco Lopez ha presentato la formazione esattamente dell'anno scorso, poteva essere uno stress test molto preoccupante, a giudicare anche da come è iniziato perché in un minuto di gioco il Levante era già in vantaggio ma non era in vantaggio in un modo casuale, era in vantaggio con un super gol del comandante Morales che rimane la grande guida di questa squadra, Morales che ha sfruttato l'errore di un giovane, Scher, uno dei tanti giovani che Grassi ha dovuto coinvolgere per questa partita e poi ha slalomeggiato con una tranquillità quasi imbarazzante per gli avversari nella difesa del Valencia facendo fuori Jaume a Domenico, 1-0 subito, occasione per il 2-0 un paio di minuti dopo, avvio che faceva preludere a una serata molto molto ingloriosa per il Valencia, poi però il derby è opportunità di riscatto stavolta al contrario e abbiamo vissuto un derby veramente intenso perché il Valencia ha pareggiato con Gabriel Paulista sugli sviluppi di calcio d'angolo, il Levante è ritornato in vantaggio, doppietta del comandante Morales, c'era stato ancora un lato a melero per un tocco di mano da parte di campagna sull'azione e alla fine il Valencia è riuscito a rientrare, ha pareggiato ancora prima del riposo con Maxi Gomez e nel secondo tempo si è regalato la gloria con la doppietta di Manu Valleco, 4-2, vittoria esaltante e quantomeno un po' di respiro per una squadra che però non muta il proprio momento e le proprie caratteristiche. Cavi Grassia, come detto, si è ritrovato con un gruppo poco pesante da plasmare e soprattutto con tanti giovani da dover lanciare, più per necessità che non per virtù, anche se i giovani del Valencia, e l'ultima uscita anche in questo caso quella di Ferran Torres ne è una testimonianza, sono giovani che meritano dell'attenzione. Contro il Levante l'eroe è stato Manu Valleco, che non è né un ragazzino né un canterano, perché è un giocatore che si è formato nelle file del Cadice, che già l'anno scorso era arrivato in prima squadra e aveva segnato qualche gol pur avendo giocato poco, ne ricordo anche uno post-lockdown. Valleco ha segnato questi due reti, però non è lui l'elemento dalla cantera o quantomeno dai giovanissimi che andrebbe segnalato. Al di là degli errori di Escherdo, la partita di ieri sera ne segnala due in particolare. Uno è Yunus, questo ragazzo inglese arrivato dall'Arsenal a livello giovanile, un 2002 che compierà 18 anni a novembre, ha preso una traversa e si è dimostrato un giocatore parecchio interessante da seguire, ma per me il vero talentissimo del Valencia è quello che ha imbastito i primi due gol del derby di ieri sera, ovvero il coreano Kang In Lee, stella dell'ultimo mondiale under 20, dove ha portato la Corea del Sud fino alla finale, poi persa contro l'Ucraina. È un giocatore che ha un mancino in grado di cantare musica lirica, è un giocatore che è inventivo, è un giocatore che può piazzarsi sia sull'esterno che sottopunta, è veramente un prospetto di caratura mondiale. Io Kang In Lee lo aspettavo già l'anno scorso, mentre l'anno scorso non è riuscito a trovare lo spazio che si pensava potesse avere, nonostante si parli di un giocatore giovanissimo, un giocatore di 19 anni, però si pensava potesse avere uno spazio maggiore. Non l'ho trovato quando lo ha avuto, non ha mostrato cose positive, anche qualche cartellino rosso, qualche intemperanza caratteriale. Direi che Kang In Lee non poteva partire meglio in questa stagione, perché ha disegnato il corner per il primo pareggio di Gabriel Paulista e poi ha dato una palla straqualitativa sulla corsa di Maxi Gomez per l'azione del 2-2. Iniziare così con due assist è il modo migliore di cominciare, però questo Valencia ha trovato forse in questo derby un bel tappeto sotto cui nascondere della polvere, perché le parole di Cavigracia anche dopo la partita sono state sempre quelle. Grande soddisfazione, grande gioia per questo debutto, ma anche la consapevolezza che i problemi rimangono e questa squadra non può essere una squadra in grado di assaltare l'Europa. Vedremo cosa arriverà dalle stanze del potere, dalla proprietà che ha base in Singapore, però per una delle piazze più calde non solo del calcio spagnolo ma del calcio europeo questo avvio è sicuramente un bel balsamo per i dolori dell'estate, però non può cambiare del tutto la situazione. Detto che questa prima giornata di Liga, pur senza i big, qualcosa di molto interessante ce l'ha fatto vedere lo stesso al di là di questo derby c'è stata la caduta subito dell'Atletic Bilbao contro il Granada, Granada che si conferma squadra vera, squadra che proverà ad assaltare l'Europa attraverso i preliminari, la prima partecipazione in assoluto a livello internazionale di questo gruppo forgiato e guidato molto molto bene da Diego Martinez. Partenza, ripeto, negativa per le basche, l'Atletic Bilbao ha perso a Granada, la Realzo si è davanti a fermare sull'1-1 dal Valladolid e l'Alaves, il nuovo Alaves di Maccina, l'autostrada al Betis di Pellegrini. Betis che ha vinto all'ultimo assalto, all'ultimo tiro, una conclusione dell'ex Fiorentina-Teglio sul primo palo, però è stata una vittoria meritata, gli andalusi avevano colpito un paio di legni nel corso della partita, è un progetto interessante, quello del Betis di Pellegrini, che per il momento mostra cinismo, l'ho fatto vedere anche nelle amichevoli, vedremo se troverà anche quella qualità di gioco che ha spesso caratterizzato la carriera dell'ex tecnico di Manchester City, Real Madrid, San Lorenzo, River Plate, Villarreal, tanto per citarne alcune, ma è un progetto, ripeto, molto molto interessante. Bene, vi ho dato una panoramica di quella che è stata la domenica fra Francia e Spagna nel calcio internazionale, come detto, inizia una settimana in cui parleremo di tante cose, parlerò molto presto di quelli che possono essere i movimenti di mercato delle big italiane in questa settimana, domani, ve l'ho detto, farò un punto sulla Premier League e non solo, ci avvicineremo alla prima di campionato, ho intenzione insomma di essere molto presente in quest'ultima settimana di preparazione prima dell'avvio esplosivo della Serie A, per cui vi auguro una buona settimana e vi dico, siate presenti anche voi, siate attenti e reattivi perché ci vedremo tantissimo e prestissimo qui insieme sul nostro canale.